Bo-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Dobbiamo andare immediatamente a Barkingburg! Quindi si tratta di... Una mission! Robo Cucciolo, vai in modalità invisibile! Bo-Patrol, grazie al cielo siete qui! Io sono scomparsa! Il suo ritratto, veramente? Chase, cerca qualche indizio vicino al cavalletto! Ryder, questa macchia gialla sul pavimento odora di... Formaggio! Oui! È l'ingrediente segreto della mia pittura ad asciugatura rapida! Segui quell'odore, Chase! È Sweetie! Ha preso lei il dipinto! Sweetie, dacci il ritratto reale! Non so di cosa stiate parlando! Questo qui è il mio ritratto! Ma l'odore di formaggio della pittura di François proviene da questa tela! Vorrei tanto restare ad annusarlo, ma devo andare! Sweetie non sarebbe fuggita con quel ritratto se non fosse stato quello della principessa reale! Il mio naso dice che è quello! Al lavoro, Mission Poe! Sweetie, sei stata davvero cattiva a giocare con il mio ritratto reale! Non l'ho preso io, mia principessa! Vedete? Grazie per averlo salvato, Po-Patrol! Non c'è di che! Principe, sai, in ogni occasione noi siamo a disposizione! Po-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Qualcosa è andato storto alla gita nella palude! Una creatura ha spaventato i Goodway facendoli scappare! Una creatura, hai detto? Proprio così! Il sindaco è bloccato nelle sabbie mobili e i Turbot non rispondono al telefono! Ma Ryder, c'è la bassa marea a quest'ora del giorno e l'acqua sarà troppo bassa per il Sea Patroller! Hai ragione, Zuma! È per questo che si tratta di... Un Ultimate Rescue Palustre! È assolutamente ora di tuffarci dentro! Perfetto! Al lavoro, Po-Patrol! Gli alberi interferiscono con il mio GPS! Non riesco a trovare la Flander né Goodway! Chase, usa il drone della palude per cercare indizi! Wow! Drone della palude! Impronte! Scommetto che quelle piccole sono di Julia e Julius! Quelle più grandi devono essere del sindaco! Andiamo a controllare! Seguiamo quel drone! Eccoli là! Sindaco Goodway, Julia, Julius! Sì! Viva la Fompa Tron! Sapevo che sarebbero arrivati! Rubble, usa la tavola per recuperare il sindaco Goodway! Rubble come un super raggio! Tavola! Bene, sindaco Goodway! Salga sulla tavola facendo attenzione! Tavola, rientra! Oh, grazie, Rubble! Come dicono sempre i miei nipotini, che forza! Benvenuto a Berkinburg, signor Stars! È un onore essere qui, qui! Mi farebbe molto piacere offrirti un tè questo pomeriggio prima del concerto! Forte! Chissà perché Luke ci mette così tanto! Principessa, ho guardato il camerino e ho cercato in tutto il castello, ma non riesco a trovarlo! Luke Stars è scomparso! Meglio chiamare la Pupa Troll! Pupa Troll! Sono così felice di vedervi! Principessa, siamo arrivati il prima possibile! Rocky, tu ed io cercheremo all'interno del castello! Sky, tu pensa all'esterno! Muoviamoci! Ricevuto, Rocky! Vado! Temo che non verrà mai ritrovato! E le luci della ribalta saranno tutte mie! Non è dietro questo muro! Cerca ancora! Sky, qualche traccia di Luke? Vedo qualcosa! Sembra il suo cappello! È incastrato in una finestra della Torre Est! Bel lavoro, Sky! Il muro interno verso la Torre Est dovrebbe essere proprio qui! Rocky, controlla dietro questo muro! Wow! C'è un ascensore segreto! È Luke! È in una stanza quassù! Ottimo lavoro, Rocky! Rubble, Sky! Vediamoci fuori dal castello! Sto arrivando a ride! Pinze da costruzione! Il mio cappello! Grazie, mi avete salvato! Ehi, amici! Vi avrei chiamato, ma Sweetie mi ha preso il telefono e mi ha chiuso qui! Ma per fortuna stai bene! Adesso ti portiamo al concerto! Signore e signori Luke Stars! Buonasera, Birkinburg! Scusate il ritardo, principessa! Cavalieri del soccorso! Birkinburg! Cavalieri del soccorso, siamo pronti all'azione! Dobbiamo salvare Sweetie dal drago Sparks... Aiuto! ...e poi riparare il percorso! Per questa missione avrò bisogno di... Sky! Questo cucciolo cavaliere ha imparato a volare! E Rocky! Semaforo verde, signore! Ah, bene! Al lavoro, cavalieri del soccorso! Oh, grazie al cielo siete già qui, cavalieri del soccorso! Sky, tu hai trovato qualcosa? Per adesso niente drago e niente Sweetie! Tu continua a cercare e avvisaci non appena li avrai trovati! Questo pallo si è bruciato! Nel camion ho quello che mi serve per ripararlo! Riciclare è meglio che buttare! Ben fatto, Sir Rocky e Sir Rubble! Sky, hai novità sul drago in fuga? Ho trovato Sparks! Ma è troppo agitato! Non riesco ad avvicinarmi per prendere Sweetie! Cerca di distrarlo, Sky! Può prestarmeli, per favore? Grazie! Sparks! Non sembrano due bei marshmallow giganti? Vieni a prenderli! Ti ho presa! Ti ho presa! Evviva! Grazie, rider e cavalieri del soccorso per aver salvato il torneo! Non c'è di che, vostra altezza! Ogni volta che qualcuno combina dei guai, noi siamo a disposizione! La trovo in forma, signorina Marjorie! Grazie, sindaco Godway! Ma faccia attenzione con quella torcia! Ci servirà per accendere la fiamma qui, quando daremo inizio ai giochi! Non vorrei scivolare o inciampare! Signorina Marjorie, va tutto bene? Sto bene, cara! Ma dove è finita la torcia? Oh no! Presto! Allontanatevi tutti! Salve, sindaco Godway! È tutto pronto per la cerimonia di apertura? Beh, lo era! Ma adesso c'è del fumo che esce dal terreno! Nessun terreno è troppo fumoso per un cucciolo coraggioso! Grazie per essere arrivati subito, Poppa Troll! Cosa ne pensi, Marshall? Non c'è niente che brucia sul terreno! Probabilmente sono le radici! Devi essere iniziato quando la torcia è caduta in una delle buche delle talpe! Chase, usa il tuo visore! Sono le radici a bruciare! Sky, fai una ricerca aerea per vedere se c'è del fumo altrove! Ali! Marshall Trader, io vedo altro fumo qui! Sky ha ragione, c'è altro fuoco sotto terra! Le fiamme devono aver raggiunto altre radici! E sta cacciando via le talpe dalle loro tane! Le loro gallerie attraversano l'intero campo! Useremo quelle per portare l'acqua al fuoco! Dobbiamo assicurarci che tutte le talpe escano dalle buche! Venite a prendere i dolcetti! Aspetta! Allarme talpa! Ehi, piccolina! Sei rimasta qui per aiutarci a spegnere l'incendio! Marshall, presto! Reggiti! Il fumo è scomparso, Marshall! Non c'è traccia di fuoco nemmeno da quassù! Bravissimi! Ce l'avete fatta? Sì! Sì! Questo è il mio fumetto preferito! Si chiama CuccioBot! CuccioBot! Facciamo finta di essere CuccioBot! State giocando a CuccioBot! Vuoi giocare? Salve, sindaco Goodway! Va tutto bene? Niente affatto! Oh, patrol! Stiamo pronti all'azione, signore! L'armatura del sindaco Goodway è precipitata da un aereo! Adesso i pezzi sono sparsi per tutta la città! Ma quell'armatura è il dono per la principessa! Principessa! Ecco perché dovremmo fare in fretta! Per questa missione avrà bisogno di... Rocky! Tu dovrai rimetterli tutti insieme con il nuovo camion per il riciclo! Semaforo verde, signore! Bene! Al lavoro, bow patrol! Spero che l'armatura torni perfetta! Lo speriamo tutti! Salve, sindaco Goodway! Il treno della principessa è arrivato! Ti prego, dimmi che l'armatura è pronta! Guardi lei stessa! Benvenuta a vostra altezza reale! Abbiamo un regalo unico e speciale per la nostra principessa! Le chiedo scusa per il chiasso, sindaco Goodway! Ovunque andiamo, ci regalano un'armatura! Ehi, sindaco Goodway, siamo... Ryder! Tu lo sapevi che la principessa ha un intero vagone del treno pieno zeppo di armature? Wow! Ryder, mi è venuta un'idea! Vieni con me! Rubble, rimettiamo l'armatura nel camion per il riciclo! Oh, ma il Cucciobot! Siamo suoi grandi fan! Grazie, Paw Patrol! Ogni volta che serve un regalo speciale, noi siamo a disposizione! Cavalieri del soccorso, siamo pronti all'azione, signore! Sparks ha congelato l'entrata del Big Benji, intrappolando dentro la principessa e il conte! Chissà che freddo fa! Quindi, per questa missione avrò bisogno di... Rocky! Semaforo verde, signore! E Sky! Questo cucciolo cavaliere ha imparato a volare! Ah, bene! Al lavoro, Cavalieri del soccorso! Attento! È molto scivoloso! Saldatore! Ryder, sono Sky! Li ho trovati! Fermo, Clo! Fermo? Forse intendevi freddo! Atterraggio davvero brusco! Ma almeno ho ricevuto un benvenuto caloroso! Ciao, piccoli! Sono fuggiti, Ryder! Ma ho scoperto perché Sparks sputa ghiaccio! È per via di quei marshmallow blu! Grazie per l'informazione, Sky! Il tuo elicottero? Se la caverà! I miei nuovi amici mi stanno aiutando! Li hai proprio conquistati, Sky! Come va con la porta, Rocky? A meraviglia! Ottimo lavoro! Bravo! Siamo liberi! Ah! Sono usciti! Ora torniamo al castello e scaldiamoci un po'. Il ghiaccio si è sciolto e il Big Benji è stato caricato! Adesso possiamo dire grazie, Cavalieri del Soccorso! Non c'è di che, vostra altezza! In ogni occasione, noi siamo... ...a disposizione! Po-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! I gattini del sindaco Hamdinger sono sull'auto del Clown Toodles e viaggiano fuori controllo! Per questa missione avrò bisogno di... Chase! Ci pensa Chase! E... Sky! Prendiamo subito il volo! Bene! Al lavoro, Po-Patrol! Non temete, gattini! Qualcuno che non sono io mi salverà! La dobbiamo rallentare! Sky, abbassa Toodles fin sopra l'auto! Adesso, Toodles, togli la chiavetta! Hai un po' d'olio nel cappello con cui allentare la chiave? Oh, no! Così rischia di scivolare! Ce l'ha fatta! Ottimo lavoro, Toodles! Oh, i miei gattini! Sono in salvo! Sì! Sì! Yuhuu! E oh! Oh! Aiuto! Rocky, Zuma! Servono rinforzi! Semaforo verde, signore! Siamoci dentro! Meglio affrettarsi! Si dirige verso la festa di Alex! Attenzione! Il sindaco Hamdinger rovinerà la mia torta! Non se ci sono io! Oh! 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 Avete salvato la torta e la festa! Grazie, Popatroll! Non c'è di che, Alex! Ogni volta che perdete il controllo di un clown, noi siamo a disposizione! C'è un grosso guaio a Berkiburg, cuccioli! Gli animali hanno preso il controllo del castello! Dobbiamo radunare il controllo del castello! Dobbiamo radunerli prima che qualcuno si faccia male, come il conte che è appeso ad un gargoyle! Oh, sento cielo! Per questa missione avrò bisogno di Sky! Questo cucciolo ha imparato a volare! E Chase? Ci pensa Chase! Al lavoro! Mission Poe! Poe Patrol! Serve aiuto? Oh, ti ringrazio! Non c'è di che! Griglia l'ase! Così si fa, ippopotamo! E ora seguimi! Chase, Marshall viene verso di te con un paio di amichetti! Marshall, da questa parte! Verso la botola! Oh, sembra che ci siano tutti! Ma come hanno fatto gli animali ad entrare nel castello? Credo che ci sia lo zampino di Sweet! Ho preso la corona! E me la tengo stretta, Boppe! Non mi prenderete mai! Sembra che stia affondando! Zuma, vai a controllare! Sta affondando nel fango! Dobbiamo tirarlo fuori subito! Chase, serve il tuo materasso gonfiabile! Meno tre! Due! Uno! Ora! Perfetto! Ottimo lavoro, ragazzi! È mia! 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 Po-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Sta succedendo qualcosa ai giochi di Adventure Bay? Le medaglie sono scomparse! Sembrerebbe proprio un bel mistero! Ci sarà bisogno di un'indagine molto seria! Ci occorre una squadra scelta di cuccioli poliziotti guidati dal nostro esperto Chase! Ricevuto! Al lavoro, Po-Patrol! Rider! Devi trovare quelle medaglie! Rocky, tu controlla il terreno in cerca di tracce! Ricevuto! Nessuna traccia qui! Tu hai trovato qualcosa, Marshall? Solo dei petali sotto l'espositore delle medaglie! Chiunque abbia preso le medaglie non ha mai toccato il terreno! Guarda là dove c'era la medaglia d'oro! Velo di gatto! Ma non ci sono tracce feline sulla sabbia! Perché devono aver usato qualcosa per sfrecciare in aria, facendo cadere tutti i petali dei fiori! Ma come facciamo a catturare questi banditi volanti? Io ho un piano! Io voglio tutte le medaglie! Fermati! In nome della legge! Restituisca quelle medaglie! No! Sono tutte mie! 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 Dobbiamo salvare il sindaco Handinger! Skye, tieni d'occhio il sindaco! Sì, ricevuto! Sembra che sia diretto al canyon dei cactus! Rete! Perfetto! Ora ridatemi le mie medaglie! Spiacente, sindaco! Le medaglie tornano al loro posto! Grazie di cuore a Chase e alla Poopatrol! Non c'è di che! Ogni volta che una medaglia scompare, siamo a disposizione! Poopatrol! Siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! A quanto pare il sindaco Handinger è rimasto intrappolato in un gigantesco coniglio di cioccolato! Chi l'avrebbe detto che il sindaco Handinger in realtà era così dolce? Qualcuno lo sta portando dentro al bosco! E ora aspetta a noi salvarlo! Per questa missione avrò bisogno di... Chase la spia! Ci pensa Chase la super spia! E Skye! Questo cucciolo ha imparato a volare! Bene! A lavoro! Poopatrol! Aiuto! Skye! Cala l'imbracatura! Ricevuto, Ryder! Oh oh! Skye! Sbrigati! Il sole scioglierà il cioccolato! Chase, vai sul fondo del crepaccio e prepara la tua rete! Subito! Che sta succedendo? Oh no! L'ho mancato per un pelo! Oh! Rete! Ryder! Il coniglio è rimbalzato e la corrente lo sta portando via! Zuma! Abbiamo bisogno del tuo overcraft! Doppiamoci dentro! Non ci resta che riportare il coniglio a riva! Ryder! Abbiamo un problema! Oh sì! Quei delfini sono un po' troppo vicini! Zuma! Devi portare a riva il coniglio! È in fretta! Salva gente! Che cosa succede? Sindaco Handinger, si tenga fotte! Beh, ve la siete presa comoda, ma grazie è lo stesso! Non si preoccupi, Sindaco Handinger! Quando resta bloccato in un coniglio di cioccolato, noi siamo a disposizione! Attento, cugino! Questa lente è lucida e senza una riga! Cerchiamo di non rovinarla! Ma certamente! Questa nuova lente di vetro farà splendere il tuo farro come non ha mai fatto prima! Ed è anche ottima per fare delle boccacce se ci guardi attraverso! Carichiamo la lente! E adesso andiamo sull'isola! Wittwitt! Di cosa? Non credo proprio, sarà un lento e lungo viaggio, così la mia lente sarà al sicuro! Caspita, quei tronchi stanno prendendo fuoco! È meglio fermarsi! La leva del freno è bloccata! Non posso fermarmi! Mi serve aiuto! Bene, dobbiamo spegnere quell'incendio! Prima però dobbiamo fermare il treno! Ben detto, Marshall! Rubble, afferra il treno usando il gancio! Poi lo fermeremo con i nostri freni! Non avevo mai agganciato un treno prima d'ora! I tuoi arti! Bene, freni! E ora spegniamo i tronchi! Auto con cannone ad acqua! Grazie mille, po' patrón! Nessun problema! Non c'è di che! Oh, questo telecomando è davvero impossibile da decifrare! Non voglio che il mostro balli il Boogie Boogie! Voglio solo che cammini fino a Foggy Bottom! Oh, oh, oh! Eccoli che arrivano! Quel gigantosauro è gigantesco! Finirà per distruggere qualcosa! Smettila di ballare! Meglio stare indietro, sindaco Go2! Sembra che il gigantosauro stia per lanciare un'altra palla di fuoco! Io ho sentito urlare! Che cosa c'è? Una lucertola gigante! Oh, cielo! Cicaletto! Mmm, cotte alla perfezione! Skye, prova a rintracciare il gigantosauro! Oh, Alice! Rider, ho trovato il gigantosauro! Dov'è? Vicino al quartier generale! Oh, patrol! Al quartier generale! Presto! Adesso salviamo Cicaletta! Parabrezza! Giù! Stai buona, Cicaletta! Presto, Marshall! Sta per far fuoco! Cicaletta! Salta su! Caspita! Punta verso di noi! Pronti, Cuccioli! Sta per... Tobi, pronti! Acqua fuori! Ora! Più a sinistra! A sinistra! Così! Resta così! Marshall! Cuccioli! Abbiamo fermato il robot! Sì! Sì! Poppa Troll! Siamo pronti all'azione, signore! Grazie per essere qui, Cuccioli! Il sindaco Goodway! No! Cicaletta! I Turbot! E Danny? E Danny X il temerario! Sono caduti tutti quanti dalla cima della montagna! Oh! Sky! Tu piloterai l'elicottero estremo e guiderai gli altri cuccioli in questa missione! Sì! Questo cucciolo estremo ha imparato a volare! Bene! Al lavoro! Poppa Troll! Rocky! Usa la pinza per liberare Danny dall'aliante! Rubble! Tu ti occuperai di agganciare i Turbot al cabo! Che bel paracadute! Pinza! E vai! Ciao ragazzi! Prossima fermata all'elicottero estremo! Yuhu! Questo è troppo estremo! Grazie! Oh no! Aiuto! Il mio canotto si muove! Sky! Il canotto del sindaco Goodway sta scivolando! Marsha! Zuma! Dovete far salire il sindaco sulla piattaforma! Sto scivolando! Salva gente! L'ho presa! Ben fatto, cuccioli! Ma guarda che bei sorrisi! E che panorama meraviglioso! Grazie a Sky e ai nostri cuccioli! Per ogni scalata andata male, noi siamo sempre a disposizione! Oh Patron, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! Stanno scomparendo i cellulari di Adventure Bay! E ora non ci possono chiamare! Ecco perché questo è... Un salvataggio estremo di polizia! Chase! Con le tue capacità di poliziotto dirigerai la squadra! Serviranno tutti i cuccioli per risolvere il caso! Bene! Al lavoro! Pou Patrol! Che bello vedervi, Pou Patrol! Ci pensiamo noi, Keki! Marshall, usa la scala e tira giù caldo! Subito, capo! Scala! Mi fa il celletico! Signor Porter, può dirci cosa è successo qui? Giocavo a Gran Turco Crash quando ho sentito cadere i bidoni della spazzatura Sono andato a raccoglierli e ho lasciato il cellulare qui Forse troveremo degli indizi vicino a quei bidoni Rocky, usa il tuo scanner per vedere cosa trovi Scanner! Chase, ho trovato delle impronte! Sono molto piccoli! I fantasmi lasciano impronte? Queste impronte sanno di... Cocomero! Seguiamo questo odore! Ma è un procione! Un procione che balla! Ora ho capito! I procioni cercano il cibo di notte! È per questo che ha preso i cocomeri! Io ho un'idea! Qual è il piano? Ehi, piccolo procione! Balliamo la Gran Turco Crash Dance? Siete i migliori! Grazie, cuccioli! Grazie, Ryder! Non c'è di che! Po-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! La città è rimasta senza elettricità! Fortuna che al quartier generale abbiamo il generatore di emergenza! Aspetta a noi, dargli una mano e ripristinare l'elettricità! Per questa missione avrà bisogno di... Chase! Chi pensa a Chase? Bene! Al lavoro! Po-Patrol! Guarda! Pensi che possa avere a che fare con il blackout? Sindaco Hamdinger, la prego, spenga l'insegna! Ha causato un blackout totale! Mai! È un'opera d'arte! E poi, come si fa a spegnere un faccino così simpatico? Scusi, sindaco Hamdinger, ma ad Adventure Bay serve l'elettricità! E c'è ancora qualcuno che ha bisogno di aiuto! Andiamo, Chase! Ma c'è una cosa con cui la Po-Patrol non ha ancora fatto i conti! Le batterie ricaricabili! Forza, Megan Dinger! Non si vede neanche una stella con questa luce! Quale sarà la causa di questo strano sole? Oh-oh! Se quella luce non viene spenta, perderemo l'allineamento dei pianeti! Meglio chiamare la Po-Patrol! Allora, Skye, usa il tuo gancio per allontanare la sagoma del faro! Ricevuto! Oh, gancio! Vieni con me, Megan Dinger! Guardate, l'allineamento planetario procede proprio come previsto! Wow! È uno spettacolo sensazionale! Po-Patrol, grazie! Ce la siamo vista brutta! O meglio, non vista! Non c'è di che! Ogni volta che le luci diventano troppo luminose, noi siamo a disposizione! Oh! Le abbiamo trovate! Guardate quante ossa d'oro! E sono tutte mie! Cicaletta! Vengo a prenderti, piccolina! Oh, ma ciao, Cicaletta! Cosa? Roide, il municipio sta sprofondando! Cosa? Il GPS dice che siamo quasi sotto il municipio. Scopriamo che succede! Forza, gazzini! Più in fretta! Questo sembra... Il sindaco Andinger! Fermo! Voi volete le ossa d'oro solo per voi! Ma sono tutte mie! Ho tutta potenza! Dobbiamo sollevare il municipio! Siamo qui per aiutarti, Rocky! Ci siamo anche noi! Ottimo! Mi servono tutte le travi che trovate. Semaforo verde, andiamo! E' fatto! Il municipio sta per sprofondare! State tranquilli! Devo solo dargli una spintarella con questo sollevatore creato a riciclarte! Attanto, Rocky! Sì! E' viva! Cavalieri del soccorso! Siamo pronti all'azione, signore! Chloe e il suo drago volante stanno venendo qui! Noi dobbiamo riuscire a tenerli alla larga dal castello! Ma, Ryder, come facciamo noi a fermare un drago volante sputafuoco? Con i nuovi veicoli dei Cavalieri del soccorso! Per questa missione mi servirà... Marshall! Userai la tua lancia ad acqua per spegnere gli incendi causati dal drago! Questo cucciolo Cavaliere non aspettava altro! Ah, bene! Al lavoro, Cavalieri del soccorso! E adesso facciamo un buco nel ponte e assalchiamo il castello! Che cosa? Ti conviene chiudere l'acqua, Sir Zuppo! Vai! E sono Sir Marshall, un Cavaliere del soccorso! Sparx, prendi il volo! Ehi! Scendi dal mio drago! Non posso farlo senza aver ripreso il dente di drago! Sparx, vola a testa in giù! Oh, no! Chase! Adesso! Dragorete! Sto bene! Ma... il dente di drago magico si è rotto! Marshall! Questo è un bene! Chloe adesso non può più controllare il drago! Guarda! Sparx, aspetta, no! A nome di tutta Barkinburg per aver salvato il nostro regno vi ringrazio! Quando un drago diventa un po' troppo focoso noi siamo a disposizione! Cavalieri del soccorso siamo pronti all'azione, Sir Raider! Chloe ha catturato due cuccioli di drago e ora aspetta a noi salvarli! Ma dobbiamo stare attenti! Anche la loro mamma li sta cercando! Per questa missione avrà bisogno di... Skye! Questo cucciolo cavaliere ha imparato a volare! Ah, bene! Al lavoro, cavalieri del soccorso! Siete bloccati? Boo! Boo! Così imparate a sputare il fuoco e a sciogliere tutti quei marshmallow! Cuccioli di drago? Chi vuole uno spuntino? Sparx! Mi serve una zappa! Ci pensiamo noi, Chloe! Cuccioli! Cavalieri del soccorso ho bisogno di tutto il vostro aiuto! Arriviamo subito, Sir Raider! Oh, no! Mamma drago pensa che vogliamo fare del male ai cuccioli! Rocky! Usa l'argano per afferrare il carretto! Subito! Sbattete le ali! Sbattete le ali! Sì! Sto cadendo! Chase! Tocca a te! Uh! Dragorete! Così va meglio! Non c'è di che, mamma drago! E ricordati, quando i tuoi cuccioli rimangono intrappolati nei marshmallow, noi siamo a disposizione! Tocca a me! Tocca a me! Questo è lo squillo del pop-up! Qualcuno ha bisogno di aiuto! Oh, giusto! Raider? Ma tu non sei Raider? Esatto! Sto badando ai cuccioli, sindaco Goodway! Niente paura! La Po-Patroll risolverà tutto! Tutti i cuccioli alla torre! Di solito Raider dice Po-Patroll, a rapporto! Ricevuto! Po-Patroll, a rapporto! Raider ha bisogno di noi! Cioè, Katie! Po-Patroll, siamo pronti all'azione, Raider, signore! Voglio dire, Katie, signore! Signora! Grazie, cuccioli! Dunque, che cosa fa Raider adesso? Raider ci dice di quali cuccioli ha bisogno e che cosa devono fare! Va bene! Per salvare il signor Postino avrò bisogno di... Marshall! Userai la tua scala da pompiere per aiutarlo a scendere dall'albero! Non aspettavo altro! E Sky! Tu userai il tuo elicottero per riportare il sindaco Goodway e Cicaletta al sicuro a terra! Prendiamo subito il volo! Credo che la Po-Patroll sia pronta a partire! Forse vuoi dire al lavoro, Po-Patroll! Sì! Quello! Niente paura, signor Postino! Marshall la tirerà giù! Subito! Qua! Scala! Ora la faccio scendere, signor Postino! Ti riporterò a terra in un battibaleno, sindaco Goodway! Uh! Imbrecatura! Presa! Grazie infinite, Sky! Siete proprio dei bravi cuccioli! Allora, com'è andata oggi? Katie ha fatto un lavoro strepitoso, Raider! Ne ero sicuro! Oh, Patrol! Siamo pronti all'azione, signore! Grazie per aver fatto presto! Perché dobbiamo costruire una cosa molto in fretta! L'astroscimmia Capitan Gordi ha perso la rotta! Oh! Dobbiamo aiutare Capitan Gordi ad atterrare e quindi mi servirà una squadra per costruire una piattaforma di atterraggio! Ecco perché si tratta di un salvataggio estremo da costruttori! Ricevuto! Puoi contare su di noi! Ci sarà bisogno di un esperto che diriga la squadra! Rubble! È il suo veicolo da costruzioni estremo! A lavoro, Pou Patrol! Oh no! Gordi dovrebbe atterrare qui, ma non c'è abbastanza spazio per la piattaforma! È troppo stretto! Se da qui non si passa, andremo verso l'alto! Cosa dobbiamo costruire? Non c'è tempo per spiegare! Per cominciare smonteremo la vecchia piattaforma di atterraggio! Riciclare è meglio che buttare! Zuma, scava qui le buche per le travi! Ryder, Chase! Dobbiamo inserire le travi nelle buche! L'astronave sta arrivando! Ci dobbiamo sbrigare! Capitan Gordi conta su di noi! Rubble! È una piattaforma di atterraggio fantastica! Uno scivolo a spirale alla Rubble Razzo! Eccolo che arriva! È arriva! Ci battiamo fatta! Ryder, rispondi per favore! Capitan Gordi, sta bene? È atterrato ed è sano e salvo! Grazie, hai risolto la situazione! Direi che il merito è tutto di Rubble! Il sindaco Humminger ha colpito un iceberg con la nave! Tocca a noi ripararla prima che affondi in modo che i passeggeri possano tornare a casa! Aiuto! Quindi per questa missione avrò bisogno di... Rocky! Semoforo verde, signore! Servirà anche Everest! Ghiaccio, neve, io sono pronta! Bene! Al lavoro, Poupatroll! Al lavoro, rimorchiamo quella nave! Forza Everest! Ora colleghiamo i Poupatroller a quella nave! Ottima mira! Adesso portiamo la barca a riva! Ci siamo, Robocucciolo! Hurra! Questa nave sarà come nuova, non appena l'avremo riparata! Bene, così il sindaco Humminger potrà riportare tutti all'Adventure Bay! Ehi, ma dov'è il sindaco Humminger? Il sindaco è... Una caverna! Scommetto che il tesoro è qui dentro! Fermo, sindaco Humminger! Attento! Sta causando una valanga! Mancava così poco! Ero a tanto così! Ecco, così dovrebbe reggere! Ora siete pronti a salpare! Ryder, grazie per non averci lasciato al freddo! Non c'è problema! In ogni occasione noi siamo a disposizione! Poupatroll, siamo pronti all'azione, signore! Intenuta da paracadutisti! Quelle sono divise da aviatori! Capitan Turbot e François sono intrappolati in una grotta sull'isola tonante! Insieme a una tigre! Per questa missione avrò bisogno di... Sky, dovrai volare con un elicottero speciale! E in qualità di pilota esperto dirigerai la squadra! Sì! Questo super cucciolo ha imparato a volare! C'è un'apertura! L'isola tonante è sicuramente un antico vulcano! Pronti? Partenza! Cuccioli in volo! È la madre insieme al suo cucciolo! Dunque, il cucciolo entra nel nostro zaino, la mamma ci segue e poi... Adesso basta, spiegazioni! Aiuto! Resisti, mamma tigre! Il tuo piccolo se la caverà! Ehi là, piccolino! Pronto a decollare? Oh, ma che cubilo da tenero! Eccoci, piccolino, sano e salvo! La tua mamma arriverà presto! Dovevano essere dietro di noi, ma non li vedo! Sky, abbiamo un problema! Nessun vulcano è troppo attivo per un cucciolo coraggioso! Sky! Sì! Vi serviva un passaggio? Soltate su! È stato un salvataggio incredibile, Sky! Un cucciolo deve fare quello che si deve fare! Oh, patrol, siamo pronti all'azione, signore! In stile polizia! Come sapete, i gattini reali erano diretti ad Adventure Bay! Erano? Che vuoi dire, raga? Sono spariti! Ci servirà l'aiuto di tutti per risolvere questo caso! Chase, tu sei il cucciolo poliziotto, quindi dirigerai l'operazione! Ricevuto! Questo è un caso di polizia, ci pensa Chase! Ed ora, lasciatemi dare un forte e caloroso benvenuto ai nostri due nuovi membri della squadra gattastrofe! Perché non andiamo più veloci? Oh, coraggio, gattini! Non è l'ora del sonnellino questa! Anche voi, principini! Ora spalate! Fermi quel treno, sindaco Odinger! E va bene, lo farò da solo! Il sindaco Odinger non si fermerà! Mi è venuta un'idea! Rocky! Sky! Dovete arrivare in fondo alla collina il più velocemente possibile! Sky! Calerai la striscia di chiodi dall'elicottero! Rocky! Tu la posizionerai in mezzo alla strada! Mettiamoci all'opera! Sta arrivando il freno! Dove sono i nostri ospiti? Elizabeth! Henry! Benvenuti nella nostra umile città! E grazie ancora, Poe Patron! Non c'è di che! In ogni occasione... Noi siamo a disposizione! Cavaliari del soccorso! Siamo pronti all'azione! Serrider, signore! Chloe e Sparks hanno distrutto il ponte e ora la carrozza reale non può tornare al castello! Quindi per questa missione avrò bisogno di... Rocky! Semaforo verde, signori! E Rubble! Serrubble come un rozzo! Avrò bisogno anche degli altri cuccioli! Io sono pronto! Andiamo! Ah, bene! Al lavoro, cavalieri del soccorso! Ci siamo! Cominciamo col riparare il ponte! Rubble come un rozzo! E tu, Rocky! Tira fuori i pezzi del ponte caduti in acqua! In arrivo! L'osso di Excalibur sarà mio! Non puoi proteggerlo da solo, Chase! Pinze! Ha funzionato! Ha funzionato! Chase, state tutti bene? Stiamo bene, Ryder! Principessa, Chloe all'osso di Excalibur! È lui il cavaliere reale, a meno che io non lo fermi! D'accordo, Sir Chase! Bene, Pinze! Ora posate lentamente l'osso nel secchio e... No! No! Ryder! L'osso era un falso! Ehi, Sparks! Vuoi giocare con me? Woo! Drago Bolas! Woo! Drago Rete! Cavalieri del soccorso, grazie! Ci avete salvati! Ogni volta che un ponte crolla, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Ciao a tutti!